Comprare qualcosa di sbagliato è un errore che abbiamo fatto tutti. Capita di andare a fare un acquisto che poi non corrisponde esattamente alle nostre esigenze. Spesso e volentieri è difficile cercare di capire che cosa può fare al caso nostro e ce ne rendiamo conto solamente ad acquisto effettuato. È capitato anche a me di fare degli acquisti e di scoprire che quel particolare oggetto non rispondeva alle mie esigenze solamente una volta tornato a casa. Questo può succedere per una miriade di motivi. Perché non ci siamo informati adeguatamente, perché la comunicazione da parte del produttore o del negoziante non è stata adeguata oppure semplicemente perché nella selva di prodotti con cui ci troviamo ad avere a che fare diventa anche semplicemente difficile scegliere il pezzo più adatto a noi in quanto ci sono diverse linee di prodotti e diversi brand che ricoprono esattamente la stessa fascia o comunque che ricoprono delle fasce diverse ma così vicine che è molto facile andare a commettere errori. Nel corso di questo video vado a mostrarvi quelli che sono alcuni acquisti che ho fatto in passato e che sicuramente oggi non rifarei più. Ovviamente andremo anche a vedere le motivazioni di ogni acquisto e il motivo per cui non ripeterei un acquisto del genere per cui vi consiglio di rimanere su questo contenuto fino alla fine perché ne vedremo delle belle. Vi consiglio anche di cliccare subito il bottone iscriviti altrimenti andiamo avanti e poi verso la fine del video non ve lo ricordate più. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come ormai sapete mi occupo di fotografia da diversi anni e quindi mi è capitato di comprare determinate cose che magari nel corso degli anni si sono rivelate non dei cattivi acquisti a tutto tondo ma semplicemente degli acquisti che non rispondevano a una mia reale esigenza o necessità. E per questo motivo oggi ve ne parlo, mettiamola così, in chiave negativa parliamo di acquisti che non rifarei più oggi perché con la consapevolezza acquisita o magari perché ho comprato altre cose migliori, certe cose non le comprerei più. Cominciamo col primo pezzo. Quello che vi mostro è un obiettivo di Sigma, in particolare un 70-300 è un obiettivo che per carità non è malvagio di per sé. Io non lo uso praticamente mai, qui come potete vedere è montato su uno dei miei muletti che è la Canon EOS 550D, quindi questa è la primissima fotocamera digitale che mi sono comprato coi miei soldi. Stiamo parlando di ere geologiche fa ovviamente. E questo obiettivo, io mi ricordo, che deriva oltretutto da, come potete vedere, rientra da solo, quindi non ha una costruzione premium, come potremmo dire. È praticamente tutto plastica. Una cosa che non mi è mai piaciuta di questo obiettivo è che quando si va a innestarlo è durissimo, si fa una fatica incredibile a farlo girare. Addirittura quando lo prestai a un mio amico mi disse ho paura di rompere la macchina innestandolo perché è così duro che ho paura facendo forza di fare dei danni per farvi capire quanto è difficile da montare. E questa non è neanche l'unica pecca. Siamo in presenza di un'ottica che va da f4 a f5.6 il che significa ovviamente che se utilizziamo lo zoom alla sua massima potenza abbiamo un'ottica buia, un'ottica con cui facciamo fatica a lavorare. Vero è che c'è uno stabilizzatore e spezzo una lancia sullo stabilizzatore perché quello invece è molto buono funziona molto bene lo stabilizzatore su quest'ottica però abbiamo un'ottica buia un'ottica con cui o siamo in pieno giorno sotto il sole o veramente facciamo sempre fatica a lavorare un'ottica che ha una nitidezza assolutamente non soddisfacente. Io ogni volta che ho utilizzato quest'ottica mi sono sempre trovato riguardando le foto a pensare ma sono diventato mio per io di colpo perché ci vedo così male cioè la cosa che ho messo a fuoco è a fuoco però è opaca, è appannata insomma non è un piacere scattare con quest'ottica oddio scattare può anche andare bene perché la messa a fuoco funziona anche se è rumorosa però nel momento in cui sbobino le mie foto e me le tiro giù a computer non sono contento perché guardo le immagini e dico non ci siamo cioè non riconosco il mio lavoro e quindi è un'ottica che alla fine l'ho utilizzata un paio di volte l'anno scorso ma la uso veramente una volta all'anno anche perché è veramente difficile trovare un contesto in cui usarla buia come è per eventi non me la sento di usarla io adesso devo fare un evento nei prossimi giorni ho affittato della roba adesso poi vi farò un video anche sull'affitto perché in tanti me l'avete chiesto ho affittato un teleobiettivo sempre di Canon più potente di questo e quindi piuttosto che capito piuttosto che usare una cosa di cui non mi fido piuttosto vado a spendere degli ulteriori soldi e noleggiare dell'altra roba quindi è un acquisto che assolutamente non rifarei passiamo allo step successivo e vi faccio vedere un'ottica di cui sicuramente abbiamo già parlato questo qui non è un brutto obiettivo perché è il Canon 10-18 un'ottica di cui abbiamo già parlato l'ho anche già recensita è un'ottica che non è malvagia ha una buona nitidezza ha un'apertura che fa spavento perché stiamo parlando di f4.5 al massimo grand'angolo e 5.6 al massimo zoom quindi ok che un'ottica del genere io la uso sempre a 10 mm quindi sto sempre scattando a f4.5 però 4.5 di partenza su APS-C ragazzi è drammatico è veramente drammatico significa che o scattiamo di nuovo come prima o scattiamo di giorno o siamo sempre nei guai vero è che abbiamo uno stabilizzatore che funziona anche bene e quindi da quel punto di vista l'ottica si difende per carità perché non la comprerei più non la comprerei più perché non appena io compro un 17-40 e passo su full frame è un altro pianeta la vera differenza è quella è un altro pianeta lì mi rendo conto che posso avere di più e quindi un'ottica come questa che è esattamente uguale io se metto questa su APS-C o se metto un 16-35 un 17-40 su full frame ottengo esattamente la stessa cosa su un'ottica come questa differenze di profondità di campo ragazzi dai non ce n'è è praticamente tutto a fuoco sempre non ci sono differenze significative di profondità di campo diventa praticamente la stessa cosa solo che su full frame beneficiamo del full frame e di un'ottica costruita in un certo modo qui non beneficiamo di nessuna delle due cose la differenza è tale che a un certo momento io dico un'ottica come questa carina l'ho comprata costa niente mi ha fatto capire che mi piace questa lunghezza focale io su quest'ottica ho capito che mi piace questa lunghezza focale e quindi da qui ho comprato il 16-35 quindi sono grato a questa lente come vedete è ancora qui con me non la do via non la butto la tengo nell'armadio come tutte le altre cose la tratto bene come tutte le altre cose però oggi con la consapevolezza che ho non la ricomprerei perché andrei direttamente sul 16-35 full frame e questo vale lo so che molti di voi mi hanno detto ci sono dei brand che fanno APS-C che in realtà hanno magari Fuji aveva qualcosa di un pochettino più competitivo sui grandangoli non mi interessa perché per i grandangoli io preferisco andare sul full frame quindi non è necessariamente una questione di Canon anche se dovesse essere Panasonic andrei comunque sul full frame col 16-35 perché è la mia dimensione procediamo e qui abbiamo una menzione d'onore in realtà perché come potete vedere questo non è un obiettivo della domenica non è una cosa da pochi soldi nonostante sia l'obiettivo di serie L più economico dell'universo secondo me lo è ancora non ho controllato ma all'epoca era il più economico questo è il 17-40 che è appunto l'ottica con cui ho sostituito il 10-18 quindi passando a full frame ho cominciato a usare quest'ottica devo dire la differenza era abissale allora perché lo metto nel calderone di quelli che non comprerei più perché sto usando il 16-35 e il 16-35 è meglio di questa è molto meglio intanto è stabilizzato l'apertura è sempre la stessa quindi siamo sempre su F4 quindi da quel punto di vista non cambia niente però stabilizzato certe volte ti può fare una bella differenza soprattutto se a me capita molto spesso di essere magari in vacanza col 16-35 se sono in vacanza col 16-35 magari voglio scattare al buio al chiuso metto lo stabilizzatore così posso scattare fino a un decimo di secondo senza preoccuparmi di avere delle foto mosse oppure magari sono sempre in vacanza e quindi non ho con me il treppiede se voglio fare un bracketing e io lo faccio spesso il bracketing faccio un bracketing a mano libera con lo stabilizzatore fa tutta la differenza del mondo senza stabilizzatore non riesco a farlo quel giochino invece con lo stabilizzatore si riesce a fare quindi questa è una bella ottica secondo me che non comprerei più perché ho già il 16-35 se ricominciassi da capo prenderei direttamente il 16-35 io ho capito nel corso della mia vita che preferisco spendere di più per prendermi subito quello che voglio veramente piuttosto che fare le tappe intermedie perché fate finta il 10-18 300 euro il 17-40 700 euro se ricordo bene quello che li pagai all'epoca e oggi i prezzi saranno diversi io questa l'ho pagata 700 euro se sono 1200 lenti viene fuori 1000 euro cioè con queste due che ho preso per capire che volevo il 16-35 con queste due insieme me ne prendevo un'altra di serie L praticamente quindi fare gli step intermedi secondo me è assolutamente penalizzante motivo per cui oggi quest'ottica non la comprerei più perché andrei direttamente sul 16-35 sul 14-35 discorso simile ma diverso per quest'ottica questo qui è il 24-105 RF quindi per mirrorless e con un paraluce di terze parti perché non è fornito da Canon quindi mi sono anche dovuto mi sono voluto comprare un paraluce questa qui era l'ottica con cui ho fatto i miei video per tutto l'anno scorso quindi adesso sto usando il 35 mm macro ma prima utilizzavo questa per fare tutti i miei contenuti video e quest'ottica era inclusa con l'acquisto di non mi ricordo più di quale camera Canon EOS R probabilmente la prima che ho preso questo qui era incluso nel pacchetto quindi io non l'avrei comprato però era incluso nel pacchetto e quindi alla fine ho detto usiamolo è lì non è una cattiva lente è un'ottica con una buona nitidezza con un buon contrasto funziona bene io non mi sono mai dovuto lamentare di niente la messa a fuoco precisa silenziosa veramente tutto tutto bello ed è più leggera della versione L quindi da quel punto di vista l'unica cosa che cambia è a mio parere l'apertura che sulla serie L è fissa mentre qui abbiamo un'apertura variabile è una roba insopportabile e l'altra cosa che cambia è la costruzione la tropicalizzazione però ovviamente questa è un'ottica che io non comprerei più non l'avrei comprata neanche all'epoca perché comunque se mi avessero dato solo il corpo avrei comprato solo il corpo ma l'unico pezzo che avevano a disposizione era un kit e aveva incluso anche questo obiettivo io ovviamente sono tornato a casa l'ho provato ho fatto i miei test dopodiché ho detto va bene vado a prendere il serie L perché non riesco a lavorare efficacemente con una strumentazione di questo tipo quindi l'ho usata per un po' per fare i miei video poi l'ho sostituita anche per fare i miei video in luce controllata quindi è un'ottica che sostanzialmente non uso mai e non so se la userò ancora la sto tenendo perché non sono uno che cerca di recuperare i soldi vendendo le cose io di solito le cose me le tengo perché magari un giorno cascano comodo magari mi si rompe un'altra cosa o compro un corpo macchina mi serve un'ottica in più così ce l'ho già era già inclusa va bene così però sicuramente non è un acquisto che farei oggi da zero molto bene siamo arrivati all'ultimo pezzo e questo ve lo esibisco anche con un certo orgoglio perché è questo obiettivo che sembra una tazzina questo qui è il 65 mm macro MPE un'ottica molto particolare un'ottica specializzata che credo sia fuori produzione come tutto quello che è Reflex questa qui è un'ottica molto particolare nella linea perché come potete vedere noi qui andiamo a zoomare non è uno zoom ma è un moltiplicatore adesso vediamo se riesco a farvelo vedere riuscite a vedere qui c'è una scala dove andiamo a vedere l'ingrandimento che stiamo facendo e questa è un'ottica macro probabilmente l'ottica macro più potente voglio dire dell'universo ma quasi nel senso che ci consente un ingrandimento di 1x ma arriva fino a 5x infatti vedete che razza di mostro è è un'ottica che io non ricomprerei per un motivo semplicissimo fate conto che quest'ottica costava più di 1000 euro io la pagai 1100 1200 non mi ricordo più di 1000 euro è un'ottica che io nella mia vita professionale ho usato una volta una volta sola per un lavoro che sì me la sono ripagata con quel lavoro però me la sono ripagata 10 anni dopo averla presa quindi è un'ottica che sono contento di avere e lì se mi serve la uso come vedete non l'ho venduta la tengo perché non si sa mai un giorno mi serve l'ho già pagata quindi non ho bisogno di rimarginarci su 300 euro rivendendola adesso me la tengo è un asset in più se mi dovesse servire è lì se mi dicessero oggi la compreresti dico no non la comprerei oggi perché so che non mi serve perché ho visto nel corso della mia vita che io ce l'ho è lì se mi serve la tiro fuori ma nessuno me l'ha mai chiesta una volta sola ho detto io guarda potremmo fare una macro estrema fare una cosa mi hanno detto sì sì va bene bello ma una volta una volta soltanto e secondo me così non ne vale la pena perché comunque 1000 euro per usarla una volta nella vita l'avrei noleggiata piuttosto ammesso di trovarla è un'ottica bella poi cioè è una cosa si fanno delle cose è molto difficile da usare non ha la messa a fuoco cioè qui la messa a fuoco si fa andando avanti indietro dal soggetto quindi è molto difficile da usare si deve usare per forza su tre piedi se no non ce la si cava per forza con dell'illuminazione cioè scordatevi di prenderle e andare a mano libera nei campi a fotografare le farfalle perché non ce la fate ma neanche dipinti è un microscopio praticamente questo è un microscopio bisogna usarlo come un microscopio con la rottaia andando avanti e indietro e poi preparatevi a fare focus bracketing perché comunque quando andate a mettere a fuoco mette a fuoco una porzione così infinitesimale dell'immagine che per mettere a fuoco anche solo la testa di una mosca dovete fare 50 foto quindi è veramente molto difficile da usare una bella esperienza che ho fatto mi ricordo quando l'ho comprato che ero sudato fradicio lì a cercare di fare cose che poi mi venivano malissimo però dopo un po' ho capito che era una roba tosta e dovevo metterci più attenzione del normale oggi vi dico la verità non lo comprerei più non lo comprerei più perché come detto anche per i super zoom io non ne ho nessuno se mi serve un super zoom una volta ogni tre anni lo noleggio spendo 200 euro invece di spenderne 1200 preferisco così e quindi questo era il mio elenco di ottiche che oggi non comprerei più non sono necessariamente degli acquisti sbagliati per tutti sono degli acquisti sbagliati per me quindi io spero con questo video di essere riuscito a trasmettervi qualcosa su come andare a scegliere la strumentazione prima di fare un acquisto di pancia se avete domande ulteriori su le cose viste oggi o su altre cose io vi invito come sempre nella sezione commenti dove vi ricordo che vi rispondo spesso e volentieri con degli shorts verticali quindi iscrivetevi perché altrimenti mi fate una domanda e poi vi perdete la risposta amici è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io e il 65mm vi diamo appuntamento al prossimo video e io e io e io e io e io iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale